per la nostra strada eccoci qui allora domande vediamo un po' intanto un saluto davvero caloroso a tutti quanti e allora vediamo un po' Claudio Bettocchi buonasera buonasera adesso riscalderti con la colonna soffio il posto allora mi siedo ok ma dimmi se mi da un feedback su youtube ma non vedo nessuno su youtube per cui va bene non c'è importanza siamo solo su facebook domande che forte ok buonasera Anna Maria buonasera a tutti mamma mia si è diamo tanti va bene vediamo un po' niente non si vede ancora perfetto ok Maria Berton Maria Berton buonasera dottore quanto mi piacerebbe porre il mio caso e sentire il suo parere ma non so come fare e si dà il caso che io riceva anche negli non faccio non solo solo online ma sono anche fisicamente in alcuni ambulatori in un ambulatorio di Padova dove mi puoi oppure anche faccio delle consulenze online per cui eventualmente Maria Marisa Berton effettivamente per poter parlare di casi specifici è opportuno avere una consulenza e valutarsi insieme di persona buonasera da Napoli buonasera provincia di Napoli buonasera da Bustarsizio Riccione Reggio Calabria una curiosità provocazione persone quasi 60 un infarto già fatto due pacchetti di sigarette alcol alimentazione scorretta con di ottima salute esami in regola Elio non ti rispondo neppure perché se non so se è uno scherzo ma se fumi due pacchetti di sigarette ancora ti stai scavando la fossa scusate questa terminologia ma ti stai scavando la fossa Elio per cui non so che dire e lo so che magari ti aspettavi una risposta diversa ma non posso a parte gli scherzi Elio davvero una cosa che non dovresti smettere due pacchetti di sigarette al giorno con un infarto cardiaco vabbè la vita è la somma delle nostre scelte ricordate da Milano bene Giuseppina perfetto da Milano che bellissima cosa hola dottore Marilia ciao 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 Chiara Altamura sono tornata a camminare 6 km giusto bene stai attenta a ripristino di attività fisica Federico Golocchi esiste dottore un alimento che davvero risulta essere fondamentale per la salute del cuore Federico esiste dottore un alimento che davvero risulta essere fondamentale per la salute del cuore mi viene in mente assunzione di omega 3 senza dubbio gli omega 3 sono un alimento fondamentale che dà un beneficio enorme al cuore ma ce ne sono molti altri se ti capita di vedere il mio libro Nutri il tuo cuore vedrai che davvero ce ne sono tanti che sono dei farmaci quasi per il cuore non solo per il cuore ma per l'apparato cardiovascolare in genere ah bene siamo in diretta anche con su youtube mi sembra vediamo se è arrivata scusate sono cose tecniche dicevo restream dove sei dove sei non vedo non vedo non vedo eccoci qua ok dovrei essere anche su youtube mi sembra si va bene dicevo che ci sono alimenti senz'altro che possono essere di beneficio al cuore e che hanno il vantaggio di avere un'azione diretta sulle sulle componenti che costituiscono un rischio cardiovascolare non direttamente sul muscolo cardiaco per capirci ma su quelle cose che possono influenzare l'attività muscolare cardiaca e soprattutto le arterie e quindi una di queste sicuramente è la esagerata quantità di trigliceridi nel sangue e per questo gli omega 3 hanno beneficio non solo sui trigliceridi ma anche come antiossidanti e molte altre cose ci sono una serie di cibi che hanno un beneficio enorme in genere Federico tutti gli antiossidanti fa i nutriacetici gli alimenti antiossidanti hanno un beneficio sull'apparato cardiovascolare e non solo e non solo eccoci qua su youtube siamo anche su youtube dicevo che per chi è arrivato su youtube dicevo che riprendere l'attività fisica è davvero un momento piuttosto importante e soprattutto fare attenzione alla alla qualità del vostro esercizio fisico non fate attività fisica alle 2 di pomeriggio oppure dopo il pranzo sotto il sole coccente è un'assurdità perché poi come è successo molte persone rischiano di bucare davvero i copertoni con chiodi chiodoni e gli sta anche bene da un lato perché andare sotto il sole in bicicletta alle 2 soprattutto se è un pezzo un periodo che non è fatto attività sportiva è chiaramente un segno del destino che ti si buchi la gomma e mi rivolgo a qualcuno al quale o alla quale è successo per cui sostanzialmente evitate di fare degli sforzi intensi nelle ore più calde della giornata bene allora vediamo se rispondo riesco a rispondere a qualche altra domanda allora scusate guardo in giù perché ho le domande qui anzi ci vedo davvero anche male per cui devo anche obbligatoriamente mettere gli occhiali bene buona risata a tutti ok allora buonasera dottore da Napoli ok buonasera da Bustarsizio che bellezza che bellezza veramente dei posti stupendi adesso vedo un po' meglio per fortuna ma non sempre si vede bene qui forse voglio che tolgo tolgo ok Elio IV ho già risposto mi vedete adesso su YouTube soffro di fibrillazione atriale e io prendo Xarelto è un anticoagulante devi prenderlo perché chi soffre di fibrillazione atriale all'unico mi arrivano messaggi di tutti i tipi voi dovreste vedere che cosa c'è qui dietro dimmi una cosa display che si accendono whatsapp messenger va bene andiamo oltre dicevo lo Xarelto è un anticoagulante è un nuovo anticoagulante orale che va preso per evitare la formazione di coaguli in chi ha la fibrillazione atriale per cui davvero è necessario perché il rischio della fibrillazione atriale non è tanto per il cuore pensate un po' ma è per il fatto che aspetta è troppo alto ma è per il fatto che chi ha la fibrillazione atriale può avere della formazione di coaguli nel sangue che possono andare al cervello detto in modo semplicissimo e possono creare l'ictus per cui è fondamentale prendere questi anticoagulanti che hanno un beneficio sulla prevenzione dell'ictus cerebrale Paola Congiu Buonasera il risorso abbassi perché contiene la monacolina K che è quasi una statina e abbassa il colesterolo sì eccoci qui dalla Svizzera da Youtube bene ciao Angelo buonasera a tutti Paola buonasera Paola Congiu soffro di ipertensione la domanda è soffro di ipertensione va bene chiedo scusa non voglio Paola Congiu ma che domanda fai ma scusa ma che domanda è il coronavisimo penetrato dalle orecchie rispondete voi per favore sono un cardiologo mi occupo di cuore cosa pensa dell'ablazione trascatetere bella domanda Simonetta Scalas cosa pensa dell'ablazione trascatetere per risolvere la ritmia ventricolare penso che quando è necessaria necessaria anche se ho avuto recentemente degli spiacevoli eventi che hanno purtroppo non hanno documentato un grande beneficio però non voglio assolutamente dire nulla sicuramente Simonetta penso che l'ablazione sia un evento che può risolvere un'indagine una terapia invasiva che può sicuramente risolvere le ritmie anche minacciose per cui quando viene indicata è necessario assolutamente farla ed è una risolutiva nella maggior parte dei casi quindi ne penso bene buonasera Angela dalla provincia di Messina Mizzaga buonasera Robert Caragliu io prendo la Pradaxa con G-score dopo ablazione due anni ma l'ablazione ha fatto per via le medicine ma si vede che non ha dato i risultati può accadere Robert che effettivamente l'ablazione non vada a prendere il punto giusto per cui sostanzialmente può accadere che ci sia anche una alterata risposta vediamo un po' Renzi buonasera dottore da Luca buonasera dottor Avellino Campania bellissima la Campania in questo periodo e con De Luca voi avete blindato la Campania Pompei buonasera Pina salve Gigi buonasera bellissima Palermo bene vi salutate Laura Bas Fumagalli fibrillazione una volta sola tutti esami ok mi hanno dato anticoagulanti è strano perché per una volta solo si fa un oltere di controllo si rivede se c'è un'altra volta ma se no è un po' esagerato farei un'altra oltre delle 24 ore Laura per cui verificare un attimo che davvero se ci sia la fibrillazione laterale così una volta solo non è indicativo l'utilizzo costante di anticoagulanti buonasera dottore soffro da 14 anni di extrasistole ma durante oltre ed ECG non l'ho mai beccate secondo lei questo potrebbe essere un buon motivo per pensare al seno benigne il fatto che siano sporadiche aumentino solo nei periodi di stress grazie mille si Vanessa quasi sempre è così ma effettivamente possono essere davvero benigne davvero benigne e c'è comunque un un esame che si chiama loop recorder è praticamente è una un aggeggio davvero piccolo che dà la possibilità di registrare anche una settimana pensa te e che registra l'ex assist ma è verosimile Vanessa che se accadono così per fortuna sono sicuramente benigne se no utilizza questo sistema si chiama loop recorder ed è un registratore che va avanti anche una settimana pensate un po' ma se lo dottore vuoi sapere se lei ha qualche problema interessante questa domanda Ramona perché dovrei avere no non ha problemi di cuore fortunatamente cosa intendi per questa che curiosità è questa Ramona spiegami questa domanda che sono a volte rimango proprio colpito da queste domande perché mi fai questa domanda Ramona comunque no uso il ciclo destino per la posizione delle arterie funziona all'inizio del pacch beh sì funziona sì buonasera dottore da caso un caffè da Napoli grande Lorella sì il gambrinus esiste ancora c'è il gambrino è lì se mi sbaglio vero Lorella un caffè eccezionale buonasera Beatrice Nicoli buonasera dottore mi piacerebbe sapere il suo parere sulla salute del cuore nella medicina dello sport saluto per ragazzi giovani 12 eccetera saluto ora post covid no post covid non c'entra niente i ragazzi sostanzialmente devono fare attività fisica previa visita medico sportiva che valuti la loro funzionalità cardiovascolare questo per evitare quelle tristissime carognissime scusate il termine patologie congenite cardiovascolari che vengono scoperte solo durante la visita medico sportiva oppure la visita di leva quando c'era la leva io ero cardiologo nel ministero della difesa per cui mi trovavo spesso dei ragazzi che prima d'ora prima quel tempo non avevano avuto alcun problema e durante la visita la visita militare si riscontrava un'anomalia congenita del cuore e potevamo salvare la vita allora per quanto riguarda i ragazzi 10 12 15 17 anni sicuramente è giusto e saggio ripristinare l'attività sportiva tra l'altro io vorrei dire una cosa importante no non la dico perché se no voglio fare non voglio fare polemiche ma che aver chiuso le palestre l'attività sportiva in modo sportiva in modo così drastico è stato un danno che va al di là della infezione da coronavirus per quanto riguarda l'apparato cardiovascolare non ripristinare o non contemplare misure di sicurezza che aprano le palestre abbiano aperto ancora prima immediatamente quanto prima la possibilità di fare sport è stato conseguentemente un danno per il nostro apparato cardiovascolare per la prevenzione delle malattie del cuore enorme quindi l'obiettivo non era tanto riaprire e tenere aperti i tabaccai secondo il mio punto di vista ma era tenere aperte le attività sportive in qualsiasi forma in qualsiasi modo con le opportune modalità per evitare questa influenza più aggressiva quindi sì ecco fare attività fisica 12-15 anni nessun problema ma anzi ausilia grazie collezione ok faccio già carboidrati senza bra grazie ausilia gentilissima buonasera dottore correlazione tra cuore e acufene saluti nessuna non c'è una correlazione tra acufene possibile una forse ho risposto in maniera troppo veloce l'ipertensione arteriosa può dare a volte degli acufeni quindi che non ci sia un aumento della pressione arteriosa verifica questa cosa ma se la Lucia una volta che si inizia ad assumere il bisoprolol bisogna prendere no nel modo più assoluto Lucia nel modo più assoluto perché è un beta bloccante a meno che tu non lo prenda per una diagnosi sicura di ipertensione no la risposta è no quando è possibile evitare farmaci per il cuore evitiamo farmaci per il cuore per favore quindi non è detto che tu dobbia prenderla per sempre si può valutare la situazione del coronario senza sì sì Luca ci sono alcuni esami la scintigrafia miocardica oppure l'angiotac coronarica oppure il test da sforzo te lo citati tre ma i più precisi sono sicuramente la scintigrafia l'angioscintigrafia miocardica dove non è invasivo perché comunque viene iniettato una molecola radioattiva ma niente di che e l'angiotac coronarica anche quello è sicuramente un esame eccezionale per la valutazione delle coronarie soprattutto con lo score del calcio che è un test per valutare la quantità di calcio presente che è tipicamente localizzata all'interno delle placche ateromasiche una volta che ci iniziava il dottore poi ha deciso ok Laura no il sole ho 70 passaggiate all'automattino è una persona amica che sta cercando di aiutare due domande è vero che una frequenza cardiaca superiore agli 80 battiti al minuto a lungo andare è pericolosa la risposta è no due quali sono i sintomi di una pericardite sono dolori al petto simile infarto cardiaco ma può essere diagnosticato solo da una visita medica e da un cardiologo i dolori sono un senso di oppressione retrosternale una mancanza di fiato e poi c'è è necessario fare una visita medica e un elettrocardiogramma Laura Gold Gloders buonasera dottore il cuore soffre se si ha anemici no non soffre deve aumentare la frequenza cardiaca però perché gli anemici tipicamente avendo una quantità di emoglobina inferiore per garantire la stessa quantità di ossigeno il cuore deve portare più sangue in quella zona non so se mi sono spiegato minore emoglobina maggiore quantità di sangue maggiore flusso maggiore frequenza cardiaca ecco perché gli anemici hanno una frequenza cardiaca leggermente maggiore ausilio altri consigli di che cosa non mi ricordo al posto di riso rosso fermentato per abbassare il colesterolo perché la Svizzera è vietato è vietato ma dai è vietato il riso rosso fermentato Angelo come mai è vietato strano si ce ne sono i betaglucani i fitosteroli e altre molecole ho fatto un video Angelo su quali integratori utili per abbassare il colesterolo ce ne sono davvero tanti per cui la fibre il betaglucano appunto fitosteroli ce ne sono molti la berberina o soprattutto per il diabete posso eliminare completamente tutti i carboidrati no perché devi eliminare tutti no non è assolutamente basta che tu abbia dei carboidrati soprattutto integrali è una quantità normale punto no osia si ti vediamo bene Piero quattro stente brilique meto a proloca l'esperienza di temina bene la terapia ideale per te Pietro spero che tu faccia attenzione anche alla tua alimentazione allora Elisabetta il dolore allo stomaco oggi mi sta andando fastidio come se si fanno ad va bene Elisabetta sono un cardiologo per cui se vuoi parlare di qualcosa che domanda riguardo al cuore ma sai dottore cosa ne pensa dell'assunzione di non ne penso bene perché non la conosco non so cosa sia questa natto chinasi Marco Di Maio domanda troppo lunga Marco non riesco scusami scrivimi in privato fatto il cardiogramma è tutto ok bene bene ho scoperto di avere il forame ovale pervio Lina Bufris è un piccolo neurologismo assetto internazionale antirrianti ci sta si ci sta anche se ci sono pareri concordanti vi ricordo che il forame ovale pervio è una comunicazione che esiste in epoca fetale che poi una comunicazione tra i due atri destro sinistro e che poi viene si chiude automaticamente automaticamente mi piace dopo la nascita a volte questa non si chiude non comporta alcun problema dal punto di vista sintomatologico qualche volta può verificarsi il fatto che un piccolo coagulo passi dalla parte destra venosa dove tipicamente non produce alcun danno alla parte arteriosa provocando qualche ischemia ed ecco perché è utilizzato l'antiaggregante in realtà si è visto che non c'è differenza in chi non lo prendeva e in chi lo prendeva per cui sono pareri discordanti se non ti dà problemi prendilo comunque ti ha dato statine a non so chi sta risponendo 2,40 di colesterolo terribile non ho parole tra l'altro oggi ho visto un altro sempre esami del sangue di una persona che mi aveva portati il riferimento il range era 140 190 quindi varia dal laboratorio pensate un po' voi il guaio è che il medico o colui che vede questo valore sopra i 190 ad esempio come dava questo range viene preso dal panico e inizia a prescrivere i farmaci per abbassare il colesterolo se vai in un altro laboratorio con la persona il range è 200 e non deve prendere gli farmaci per abbassare ma vi rendete conto ma ci rendiamo conto dell'assurdità di come siamo coinvolti da questo da questo mare di esagerate assunzioni di farmaci e tra l'altro io che sono un medico allopatico dovrei non dire queste parole ma io dico quello che penso e penso davvero che soprattutto nelle statine abbiamo un sovra una sovrastima una sovrastima della prescrizione in circostanze che non sono secondo me o secondo anche quello che ho studiato non è un parere tipicamente personale va bene Sebastiano salve da Catania vogliamo le palestre aperte per il messo del psicofisico certo Marica dottore vieni a Lecce ti ospitiamo nel nostro salento viene Gustavo mamma mia ausilia vengo si verrò devo tollerivare ma Rinaldo ti voglio bene ma non posso rispondere tutte le domande scrivimi in privato Giovanna Pifano la seguo dalla provincia di Catanzaro ho avuto un infarto i suoi consigli mi aiuto sono felice che i miei consigli ti possano aiutare Giovanna davvero dottore mio marito mi ha dato torvasto 80 dopo una dissezione più coronaria mi ha sempre avuto questione la norma secondo lei secondo me no secondo me non ha senso secondo me non ha senso ripeto secondo me perché le linee guida dicono di dare 80 mg pazzesco non ha parole che faccio Roberto Pioli hanno fatto una stupidaggine non capisco perché devi riprendere quanto prima Roberto non so perché chi ti ha sospeso e perché hanno sospeso non ho mai idea però la vita va così ok Fulvia grazie sì siamo d'accordo tutti è una vergogna tabaccai aperti palestre chiuse terribile non ho parole sono senza parole palestre come campi ad atleti come qualsiasi luogo dove poter fare attività fisica chiuse tabaccai aperti no comment con rispetto per i tabaccai che devono lavorare non voglio assolutamente essere 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 dicevo assolutamente essere contro il lavoro di queste bravissime persone però i tabaccai aperti le palestre chiuse è davvero una vergogna buonasera dottore vedo una correlazione tra porzione buonasera dottore vedo una correlazione tra porzione di miocardio non compatto aritmia extracistoli e fibrillazione atriale non so cosa voglia dire miocardio non compatto non l'ho mai visto questa dizione è una risonanza magnetica che hai fatto fammi sapere Luigi perché se effettivamente è un'alterazione morfologica anatomica e c'è da fare attenzione sì ma non non ho mai visto questa dizione onestamente non so che cosa sia buonasera Luca buonasera Luca Biagini buonasera Assumo Aldo Valentini mi scrive l'oxalenta per trovare un ferito alla gamba a destra è possibile che questo famico possa farmi uscire dalla bocca del sangue sì è possibile perché è un'anti anticoagulante per cui basta solo che tu le gengive abbiano una fardività gentivale vi ricordo che ho fatto un video sulla parodontite e problemi del cuore quindi stai molto attento Aldo di non avere una parodontite o comunque una gengivite perché oltre ad essere espressione dell'oxalento senza dubbio ma è anche potenziale agente pericoloso per quanto riguarda le malattie cardiovascolari quanto valore in questi video direbbe uno scherzo dipende da che motivo Aldo lo prendi non certo per la vita se hai avuto un altro ombrofebide nel modo più assoluto ok grazie Rinaldo della precisazione grazie Elisabetta a te una coronaria che si sta occludendo che sintomi dà? come posso capire? Franca la coronaria che si sta occludendo non dà alcun sintomo sto cercando una risposta adeguata fino a tanto che non dà alcun sintomo fino a tanto che si chiude a tal punto che la quantità di sangue che attraversa quel arteria quasi completamente chiusa diventa insufficiente per la necessità del cuore quando il cuore richiede una quantità di sangue e non gli arriva perché l'arteria si è chiusa al 90% manifesta un dolore anginoso ma se l'arteria si è chiusa al 40% e il cuore richiede sangue e quella quantità che arriva è sufficiente il cuore non manifesta alcun dolore l'unica alterazione è visibile all'elettrocardiogramma o al test a sforzo chiaro? ciao Laura benvenuta ciao ciao Laura Roberta Tonelli buonasera dottore l'anno scorso tra gennaio e marzo mi sono stati applicati 8 stente mio dio Roberto Roberto scusa la cardiologa mi segue e mi dice che il colesterolo deve rimanere sotto i valori normali quanto deve essere questo valore io sai non sono un fautore di questa teoria per cui Roberto stai chiedendo alla persona sbagliata perché ritengo che la causa non sia affatto il colesterolo dei tuoi 8 stente e che il colesterolo non centri quantomeno nulla o centri in maniera marginale so che le cose che le cose che dicono vanno controcorrente ma io ho fatto centinaia di video anche nel mio corso sul colesterolo che è il corso online aperto a tutti tra l'altro per comprendere questa molecola il vantaggio che io ho fatto quel corso una versione professionale una non professionale che serve a far capire alle persone perché il colesterolo deve essere santificato e non demonizzato perché il colesterolo è una molecola vitale per la vita quindi io sono contro questo tipo di teoria Roberto per cui non posso risponderti Simona ok bene assolutamente bene Patrizia è un ottimo ottimo nutraceutico uno dei più potenti antiossidanti per cui davvero fantastico ha valori colesterolemici complimenti per aver scritto questa colesterolemica colesterolemici Claudia perché un termine davvero che con il T9 non riesco a scriverlo ma neanche se mi ammazzano quindi davvero fuori di tutto tranne questa parola colesterolemici complimenti Claudia tutti alti più di 90 punti per ogni valore tranne i trigliceridi beh bisogna vedere Claudia perché gli esami per il colesterolo che si fanno normalmente non servono a un fico secco scusate questa espressione poco medica i esami di colesterolo che adesso vengono utilizzati non valutano la pericolosità della molecola che non è pericolosa perché chiama si colesterolo ma perché è una molecola che se presente si chiama OXLDL o ApoB ApoA il rapporto tra due molecole sono pericolose sono espressione di pericolosità non certo i parametri che attualmente vengono considerati come il primo fattore di monitor di monitorare come marker di rischio per le malattie cardiovascolari cioè questo benedetto colesterolo non è l'unico indicatore e non è neanche quello più importante non so più come dirlo ci sono altri esami più specifici che indicano se sto rischiando di avere un infarto cardiaco ma perché la cultura scientifica non vuole recepire questo messaggio che non è una mia teoria di giuro è solo una 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 quello che dice la ricerca scientifica attualmente basterebbe leggere va bene scusate la mia esternazione è davvero poco professionale ma io sono un uomo prima di tutto prima di essere un medico sono una persona un uomo con un cuore un'anima una facoltà di discernamento e di e non mi adeguo alle regole che non comprendo non perché non le rispetti perché io sono un farm io utilizzo farmaci allopatici sicuramente un medico allopatico ma sostanzialmente ho la consapevolezza non per presunzione ho la consapevolezza di porre un limite quando c'è una cosa che non torna nella nella nel confronto con quello che la ricerca scientifica dice non su mie teorie ad esempio una su tutti il colesterolo oltre i 200 non è una cosa non è un marker di rischio cardiovascolare punto punto questa mia affermazione ripeto è incontrovertibile eppure nei range di normalità dei valori del colesterolo nei laboratori il range è 200 stamattina ho visto un range di un laboratorio era 190 ma da dove prendono questi valori e da dove poi generano l'incipit per una terapia ipocolesterolemizzanti cioè non può essere che l'infarto cardiaco nel 2020 malattia molto peggio del coronavirus molto peggio del coronavirus la malattia del secolo che produce più morti del coronavirus abbia come unico indicatore come marker di percorso il colesterolo ma vi rendete conto può essere logica una cosa del genere per le persone intelligenti che mi stanno guardando secondo voi può essere davvero logica questa cosa ci sono almeno 6-7 markers per il rischio di malattie cardiovascolari che non vengono mai fatti perché non lo so eppure io non ho scoperto nulla io ho solo verificato quello che studi dicono ok dunque buongiorno dottore cosa pensa dell'acido ho già risposto dunque dunque bocastoro c'è uno problema nel cuore abbiamo domande domande a quali posso rispondere cosa vuol dire oh bellissima osilia cuore d'atleta è un aspetto benefico del cuore che si adatta allo sforzo fisico aumentando in maniera omogenea e non disomogenea il suo volume il suo spessore muscolare il cuore d'atleta è un cuore leggermente più grande come molte persone hanno pur non essendo atleti in senso metaforico ma sostanzialmente è un cuore che si adegua allo sforzo fisico e quindi il cuore è un po' più ipercinetico con alterazioni elettrocardiografiche tipiche del cuore di atleta ipertrofia ventricolare naturalmente non patologica a differenza ad esempio degli ipertesi che hanno un'ipertrofia ventricolare patologica il cuore diversi la staxantina è un antiossidante potentissimo 500 volte superiore alla vitamina E eccezionale che vi consiglio di assumere nei casi di stress ossidativo quindi bisogna valutare lo stress ossidativo andate dal vostro curante e chiedetevi di fare gli esami dello stress ossidativo sorrido mentre la berberina scusa il riso rosso la monocolina K è utilizzata per altri motivi cioè per abbassare il colesteropio sono due cose diverse Betty un bacione cambio un dolore da biseglie bisceglie un dolore del petto non acuto ma che dura diverse ore si presenta ogni giorno da mesi può essere legato a un problema cardiaco no Betty se no non staremo qui a parlare Rinaldo ha detto che fino a quando non superi 300 niente sono d'accordo Rinaldo però bisogna fare gli esempi approfonditi Rinaldo quale tipo di colesterolo è aumentato APOB APOA OXLDL LDL piccolo e ossidato insomma bisogna andare a fondo chiedo per una mia piccola atleta di 11 anni questa è Beatrice eccola qua che ha una una scusate non vedo fistula coronarica è possibile che si risolve la sua purtroppo no Beatrice non si risolve da solo una fistula è un'alterazione anatomica e quindi non ricresce non si richiude non è possibile non conosco casi del genere per cui è bene che questa tua atleta di 11 anni sia costantemente seguita in modo approfondito da un cardiologo buonasera Enrica Zanderay Lorella di Gregorio ho da poco scoperto di avere l'aorta addominale calcificata è preoccupante prendo K2 va bene non è l'arteria coronaria l'aorta scusami l'aorta calcificata sono calcificazioni nell'arco dell'aorta tipicamente si fai bene purtroppo dovuto un po' alla non so quanti anni hai ma può essere una circostanza che si verifica dopo una certa età prendo K2 va benissimo anche la vitamina D però Lorella insieme dottore visto che funziona come medio di un farmaco il riso rosso fermentato è vietato perché non conviene ah davvero ah però ma davvero mi confermate che Svizzera è vietato addirittura se c'è qualcuno dalla Svizzera oltre ad Angelo non so se chiami dalla Svizzera fatemi sapere perché ritengo una cosa davvero tristissima io ho grande abbinazione per la Svizzera però non capisco cosa come sia possibile Patrizia beh che ho sotto le mie responsabilità tra 105 per molti anni non ho mai assunto statino attimamente ho fatto ecodope ecodope perfetto bene ottimo testimonianza Patrizia grazie non voglio dire che dobbiate fare le cose come fa Patrizia non voglio dire che dobbiate fare per carità lei è sotto la sua responsabilità e ognuno si assume la propria responsabilità ma sta di fatto che il colesterolo ripeto da solo non è la causa delle malattie cardiovascolari se mi sento viceversa guardate un po' Paolo cosa ci dice colesterolo basso ma ho placche sulle carotini è ovvio è ovvio che non è solo il colesterolo c'è qualcos'altro Paolo ti consiglio ti consiglio di fare OX le LDL ossidate la microalbuminuria sto dando indicazioni così verbali a voce perché se può essere utile sono felice di questo messaggio appena arrivato grazie davvero onorato dottore colesterolo LDL 173 mi devo preoccupare no non devi preoccuparti Enrica di alcuna cosa ma stai scherzando di che cosa devi preoccupare goditi la vita Enrica buonasera dottore Dani prendo le statine dal mio cardiologo però produco il colesterolo a lungo andare quali sono le conseguenze in caso c'è un'altra cura sì Paolo ha fatto decine di video su questo a lungo andare le statine producono sicuramente dei danni Ausilia grazie a lei Ausilia grazie a te Antonio buonasera dottore grazie a video grazie a nuove oh bene iscrivetevi al mio canale come ha fatto Antonio che salutiamo tutti nella vostra comunità AR si è scritto bene iscrivetevi al mio canale youtube siamo 12.000 mi sembra aumentano sempre perché cerco di fare delle cose utili e anche su qui su facebook la mia pagina cliccate mi piace così aumentiamo sempre divulgate condividete se volete questa diletta con i vostri amici ho già risposto Eugenio sul forame ovale pervio ok eh sì ce ne sono molti Eugenio dove poter chiudere il forame ovale Padova è l'eccellenza secondo me Padova la mia città in cardiologia siamo davvero i top di gamma Vitamina D come assumerla come assumerla secondo quanto te ne manca Antonio non c'è un modo perfetto ognuno la prende in base alla propria carenza Buonasera dottore le palestre ha ragione Teresa è proprio questo io non voglio fare il dietrologista il polemicista però assolutamente è una vergogna una vergogna inaudita inaudita bloccare attività fisica e tenere aperta la possibilità di acquistare che tra l'altro se uno vuole comprarci le sigarette può anche farlo con un distributore automatico o no eppure il meccanismo non lo so ma sicuramente c'erano i grattevinci tutte quelle cose che vabbè lasciamo perdere perché davvero è un discorso che mi dà malumore e la vita va affrontata invece sempre con buon umore bene ancora qualche minuto Luigi Braca Luigi Braca in prima fase con clorodopio confermato il risultato con assoluto contrasto ah ho capito beh allora va valutato approfondire un po' questa circostanza perché è una condizione anatomica che riveste alcun interesse quindi va seguito bene grande esempio Patrizia Beko magnifica 73 70 anni che fa attività fisica colesterolo totale 263 HDL ottimo 74 non devi prendere niente Betty esiste una gengivite che è il gradino dopo la gengivite cioè più grave la paradontite che può causare una seticemia cioè dei batteri che formano che si annidano nelle sacche periodontali e vanno in circolo tipicamente andando a procurare un danno alle arterie coronarie ho fatto un video su questo iscriviti al mio canale youtube e cerca paradontite cuore cuore paradontite troverai ogni spiegazione a riguardo ok va bene va bene Betty grazie ausilia ok dovremmo arrivati ok Betty da mango si sposto non so non so se l'autore mi dia un consiglio soffro di aritmia sopra venticolare a seguito mi ha dato le valvola mitraliche valvola ortica cosa mi consiglia beniamino se è stressistoli sopra venticolari non sono molte te le tieni punto e basta controlla non devi fare nient'altro non c'è niente da fare nulla fattene una ragione non sono pericolose non compromettono la tua vita che altro posso dire? povero colesterolo mamma mia vero Cristina perfetto povero colesterolo davvero pensate che ci sono delle malattie congenite che dove il colesterolo non viene sintetizzato sintetizzato in fase fetale i bambini nascono deformi con malformazioni grave per mancanza di sintesi di un enzima che produce la sintesi di colesterolo e noi ci accaniamo nel ridurro meno possibile l'over is better dicono gli americani pensate un po' la stupidà la stupidà ok quali sono i semi per gli esami e fare per il cuore ci sono decine di video su questo sul mio canale youtube Anna iscriviti e guardali che ho di aver risposto abbondantemente vediamo un po' un'altra domanda mi scusi mi scusi un'altra domanda se è possibile il magnesio supremo è vero che ti aiuta per l'extrasisto senza dubbio si si Vanessa è verissimo verissimo le sincopi vasovagali tania no sono dovute a un calo pressore il cuore non c'entra niente è una vasodilatazione neurovegetativa sistema nervoso autonomo oppure condizione genetica sicuramente non c'entra il cuore vasovagale è il vago che parla simpatico il vago che ha un'azione di dilatazione e quindi produce un calo della pressione e quali sono gli esami ho fatto un video a naturetta traetta sugli esami che io prescrivo per la valutazione vera dell'apparato cardiovascolare delle arterie non certo il colesterolo totale ho fatto più video vattene a vedere iscriviti al mio canale e infatti non lo so Cristina non ho idea buonasera a tutti bellissima Elisabetta all'inizio avete visto questa cosa che vi faccio rivedere grazie Elisabetta ve la rimando questa è l'immagine dello spettacolo del cuore che è lo spettacolo di divulgazione scientifica teatrale che spero venga no spero sono certo che verrà fatto di nuovo in tutta Italia e che ho ideato che ho ideato e che ha attualmente toccato 67 tappe pensate un po' voi con 56.000 coinvolti poi a causa di questo dannato coronavirus tutto è stato bloccato ma i tabaccai sono rimasti aperti e gli spettacoli sono stati chiusi e le palestre chiuse quindi a Milano sarebbe possibile volentieri Elisabetta speriamo di venire se noi siamo già stati abbollate e annovate ma verremo a Milano volentieri senza dubbio quali sono i marker Francesca li ho scritti su un mio li senti su un video cercali ho fatto di video Ausilia meno male il cuore d'atleta grande Ausilia complimenti eppure esperti di tutte le due che parlano di prevenzione invece nulla vero nulla nel frattempo che abbiamo parlato oggi Elio IV in questo momento due persone in quest'ora sono morte di infarto cardiaco sette in quest'ora hanno avuto un infarto cardiaco 250 oggi hanno avuto un infarto cardiaco 150.000 all'anno hanno un infarto cardiaco non dico altro l'omocisteina Maria Luisa è molto importante perché è considerata un fattore di rischio cardiovascolare sappiamo anche il meccanismo ma a te interessa sapere solo a voi che l'omocisteina alta è un fattore di rischio come il fumo di sigaretta quindi va abbassata e il motivo per abbassare e i presidi per abbassare ci sono e come no 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 non aiuta a ripulire un bel niente ha altre azioni Zanier Terry anche se pareri discordanti sulla qualità del digiuno terapeutico però non ripulisce così per così dire questo termine i vasi non riduce le placche a teromaeschi magari 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 e ho fatto un video Paola Santoro sugli esami da fare maglio rosso meglio risososso o berberina io preferisco la berberina Giuseppe perché il riso rosso assomiglia molto a una statina quindi all'effetto io proverei prima con la berberina Giuseppe le citine di soio ottima Rinaldo senza dubbio non c'è più Antonio primavera non ci sono più una volta si pensava avesse un vantaggio adesso a carattere preventivo non serve a niente l'aspirina buonasera a tutti buonasera faccio attività fisica buonasera Antonio Toscano faccio attività fisica sto attento alimentazione questo lavoro sono riuscito cosa si può fare per prevenire calcificazioni l'alimentazione soprattutto quello che stai facendo è utilissimo l'alimentazione vitamina K2 e controllo della vitamina D punto ecco qui un esempio guarda qui ti risponde l'orella vitamina K2 tutti i giorni vitamina 50.000 unità ecco qui Aldo Valentini la glicemia 160 è già diabete è certo che si e come se lo è la glicemia digiuno a 160 è diabete conclamato ce ne sono con lei troppo sincero per fare il me grazie Cristina grazie mille grazie 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 Eugenio no Maria Concetta non abbassa proprio il colesterolo ma è un potente antiossidante e inibisce l'ossidazione del colesterolo no non voglio dire delle lipoproteine piccole e dense che generano il danno vascolare quindi sì la staxantina sì uno dei più potenti antiossidanti per le LDL appunto ossidate il monzino e il top non allargatevi va bene mio papà ha applicato uno stand coronarico a calcificazione eccetera eccetera sì sotto controllo medico puoi farlo certo ma sì Antonio Purtroppo sì Ida Iole si fa un dosaggio del sangue molto semplicemente dosaggio motochimico della vitamina D bene il monzino è un'eccellenza senza dubbio ma Padova scusate Padova è Padova grazie Betty sì troverai senz'altro Cristina viene piena di pillole che penso del digino terapetico pulitare a pulire il vaso ha già risposto sono molti possono essere fegato per eccellenza e molti altri ma qui non voglio parlarne va bene siamo in tantissimi ma io devo chiudere grazie per aver partecipato a questa diretta condividete questo video se lo trovate utile fatelo con la vostra pagina iscrivetevi al mio canale youtube la mia pagina facebook domani pubblicherò un video sulla ripristino dell'attività fisica e quindi se volete guardatelo scrivetemi oppure mettete i vostri pareri che siano sempre pareri non esagerati come a volte scrivono delle parole che non comprendo per esare un eufemismo vi abbraccio di cuore ricordatevi il cuore batte sempre no il cuore batte tutto sempre un abbraccio una buona serata e buon tutto